Il primo strumento di ToolDisk che presentiamo è COESDI. COESDI è l'acronimo di contributo all'esposizione delle disuguaglianze. È uno strumento utile a comprendere il fenomeno delle disuguaglianze sociali nei comportamenti messi in atto dalla popolazione residente nelle regioni italiane con l'obiettivo di capire quali fattori di rischio hanno un peso maggiore e quali di essi sono più influenzati dalle differenze socio-economiche presenti nella popolazione. In altri termini COESDI aiuta a rispondere alla seguente domanda. Su quali fattori di rischio converrebbe lavorare per ottenere il maggiore effetto di riduzione delle disuguaglianze sociali nella salute? Inoltre, lo strumento può essere utile ad essere applicato alle prime fasi di un percorso di health equity audit, con particolare riferimento all'analisi del contesto, alla costruzione di un profilo di equità e all'individuazione delle priorità di intervento. COESDI richiede di ragionare in modo controfattuale. Questo vuol dire che per capire l'impatto reale delle disuguaglianze sociali bisogna provare a capire cosa succederebbe se le disuguaglianze non esistessero e cioè se tutti fossero esposti al fattore di rischio preso in considerazione come nei soggetti meno svantaggiati socialmente. Come si modificherebbero gli stili di vita delle persone? Per inciso, in questo strumento le disuguaglianze sociali vengono stimate attraverso il proxy del livello di istruzione dove i soggetti con il livello più alto sono considerati i meno svantaggiati. Entrando nel vivo dello strumento, aprendo la pagina COSECO ESDI, è possibile provare ad intraprendere questo percorso in diversi contesti, le regioni italiane e l'Italia, per 12 fattori di rischio di tipo comportamentale e in differenti target di popolazione, suddivisi per genere e grandi classi di età. Nella pagina descrizione delle fonti viene illustrata sinteticamente la fonte informativa utilizzata per la selezione dei fattori di rischio. Si tratta dell'indagine Aspetti della vita quotidiana, indagine condotta annualmente dall'Istat nell'ambito del sistema di indagini multiscopo sulle famiglie su campioni rappresentativi della popolazione che vive in Italia. Aprendo la pagina Fattori di rischio, vengono presentati i 12 fattori di rischio utilizzati con una loro breve descrizione e con una definizione su come sono state operazionalizzate le variabili. Aprendo infine la pagina Indicatori, vengono illustrati i tre indicatori che lo strumento propone, il beneficio percentuale, l'impatto percentuale e l'impatto assoluto. E per ciascuno di questi la coppia di valori rappresentati in ascissa i valori riferiti alla popolazione e in ordinata quelli riferiti all'effetto delle disuguaglianze. In sintesi, il beneficio percentuale consente di stimare la riduzione di esposti che si potrebbe ottenere dall'eliminazione di una determinata esposizione ad un fattore di rischio. Sull'asse delle X viene riportata la prevalenza espressa in percentuale del numero di soggetti che manifestano il fattore di rischio. Sull'asse delle Y il valore della frazione attribuibile alle disuguaglianze nella popolazione espressa in percentuale, la PAF, e che rappresenta la riduzione percentuale di esposti al fattore di rischio che si potrebbe ottenere eliminando le disuguaglianze. L'impatto percentuale indica in percentuale il numero di soggetti esposti ad un fattore di rischio che si eviterebbero se si eliminassero le disuguaglianze sociali. Sull'asse delle X è riportata nuovamente la prevalenza percentuale che esprime in percentuale il numero di soggetti esposti al fattore di rischio considerato e sull'asse delle Y l'impatto percentuale, cioè il numero di soggetti espressi in percentuale esposti al fattore di rischio che si eviterebbero se si annullassero le disuguaglianze. L'impatto assoluto indica infine il numero assoluto di soggetti esposti ad un fattore di rischio che si eviterebbero se si eliminassero le disuguaglianze sociali. Sull'asse delle X si riporta il numero assoluto di soggetti esposti al fattore di rischio selezionato, mentre sull'asse delle Y si riporta il numero di soggetti esposti al fattore di rischio che si potrebbero evitare se si eliminassero le disuguaglianze sociali. Ma passiamo ad alcuni esempi illustrativi. Vediamo un primo esempio. Chiediamo a Coesdi di identificare quali sono nella regione Lazio i fattori di rischio sui quali le disuguaglianze sociali hanno il maggior impatto. Facciamo quindi di seguito le selezioni necessarie. Selezioniamo la regione Lazio. Al passo successivo selezioniamo tutti i dodici fattori di rischio proposti dallo strumento. Ancora gli uomini e le donne nel loro insieme e infine tutte le fasce di età. Avviando la ricerca lo strumento restituisce un primo riepilego delle selezioni effettuate e restituisce poi tre tabelle con i tre indicatori che abbiamo descritto in precedenza. Vediamo la prima relativa al beneficio percentuale. Nella prima colonna vediamo selezionata la regione di interesse, il Lazio. Nella seconda i fattori di rischio. Di seguito il genere, quindi gli uomini e le donne insieme e tutte le fasce di età. Vengono poi rappresentate due indicatori che sono sulle asse delle x la prevalenza del fenomeno e su quello delle y il contributo delle disuguaglianze sociali alla esplorazione e comprensione del fenomeno. Prendiamo ad esempio il fenomeno della sedentarietà. Sull'asse delle x sappiamo che il 55% circa della popolazione nel Lazio manifesta questo fattore di rischio. Indossando le lenti dell'acuità e quindi passando ad osservare l'asse delle y possiamo vedere il contributo alla spiegazione di questa prevalenza da parte delle disuguaglianze. Quindi il 32,6% della distribuzione del fenomeno è attribuibile alle disuguaglianze. Proviamo a visualizzare il grafico. Vediamo quindi sull'asse delle x la prevalenza espressa in percentuale e sull'asse delle y il contributo delle disuguaglianze. Dando a vedere i sedentari vediamo allora una prevalenza come dicevo del 55% e una riduzione di questa prevalenza di circa il 33% che si determinerebbe se si riminassero le disuguaglianze sociali. Tornando alla tabella possiamo vedere che sull'asse delle y alcuni valori hanno davanti un segno meno questo vuol dire che la frequenza del fenomeno in studio è maggiore nella popolazione, è meno svantaggiata. Passiamo adesso ad un secondo esempio. Chiediamo ora a Coesdi di identificare in quali regioni uno specifico fattore di rischio mostra le più importanti disuguaglianze sociali. Facciamo appunto l'esempio della sedentarietà tra le donne. Anche in questo caso facciamo le selezioni, in questo caso selezioniamo tutte le regioni italiane. di seguito il fenomeno della sedentarietà. Lo vogliamo vedere solo tra le donne e in tutte le fasce di età. Avviamo anche in questo caso la ricerca, otteniamo nuovamente i riepiloghi delle selezioni effettuate. In questo caso proviamo a vedere una seconda misura che è l'impatto percentuale. Vedete come sulla prima colonna ci siano tutte le regioni, seguite poi dal fattore di rischio, dalla selezione delle donne e da tutte le fasce di età. Anche in questo caso abbiamo sull'asse delle x la prevalenza del fenomeno, mentre sull'asse delle y l'impatto percentuale delle disuguaglianze sociali sul fenomeno in studio. Proviamo a visualizzare il grafico. Nuovamente la prevalenza percentuale sull'asse delle ascisse e il contributo delle disuguaglianze all'esplorazione del fenomeno. Ad esempio in Val d'Aosta e in Piemonte possiamo vedere una prevalenza del fenomeno del 49% e una possibilità di eliminare il fenomeno della sedentarietà del 18% se riuscissimo ad annullare le disuguaglianze sociali nella popolazione. Attraverso questo tasto è possibile stampare il grafico e tornando indietro alla tabella è possibile, attraverso quest'altro tasto, esportare i dati elaborati in Excel, aprirli o salvarli su PC. vediamo ancora un ultimo esempio per una singola regione, in questo caso selezioneremo l'insieme del Piemonte e la Val d'Aosta si potrebbe esplorare il fenomeno andando a vedere in quale fascia di età le disuguaglianze incidono maggiormente. Facciamo anche in questo caso le selezioni necessarie allora selezioniamo il Piemonte e la Valle d'Aosta nuovamente il fenomeno della sedentarietà tenendo separati in questo caso gli uomini dalle donne e andando a guardarlo nelle singole fasce di età. Avviando la ricerca otteniamo nuovamente le tre tabelle andiamo in questo caso a vedere l'impatto assoluto nella prima colonna vediamo la regione selezionata poi i fattori di rischio, la sedentarietà, gli uomini e le donne e le diverse fasce di età sull'asse delle X vediamo il numero di soggetti che sono coinvolti nei singoli strati dal fenomeno della sedentarietà sull'asse delle Y l'impatto assoluto espresso in numero di soggetti che le diseguaglianze hanno sul fenomeno in studio. Proviamo a visualizzare il grafico quindi sull'asse delle ascisse abbiamo il numero di soggetti totali nella popolazione che manifestano il problema e sull'asse delle ordinate il numero, le teste di soggetti che si risparmierebbero che si salverebbero, che si evitaverebbero se si annullassero le diseguaglianze sociali. Vediamo come il fenomeno sia particolarmente alto nelle donne della fascia di età tra i 65 e i 74 anni vediamo che ci sono 156 mila donne in questa fascia di età che manifestano il problema della sedentarietà se noi annullassimo le diseguaglianze per così dire salveremmo, risparmieremmo circa 82 mila soggetti da questo fattore di rischio. Bene, riassumendo allora possiamo concludere che nel Lazio uno dei fattori di rischio sui quali impattano di più le diseguaglianze è la sedentarietà nel confronto tra regioni le diseguaglianze più marcate nella sedentarietà tra le donne si osservano in Piemonte e Valle d'Aosta in Piemonte e Valle d'Aosta la fascia di età in cui le diseguaglianze impattano di più nella sedentarietà è la fascia anziana tra i 65 e i 74 anni. E ora provate voi a rispondere ai vostri quesiti di salute e mi raccomando indossate sempre le lenti dell'equità. Grazie a tutti. Grazie a tutti.